Caro Gesù, mi rivolgo a te in questa notte speciale, in cui ricordiamo la nascita al cielo di San Pio da Pietrelcina, avvenuta cinquant'anni fa. Gesù mio, io vi amo con tutti i tuoi, vi raccomando ancora a tutti i poveri peccatori. Guarda, ti prego, in questo momento a tutti i giovani del mondo, credenti e non credenti, giovani di ogni cultura e fede, e ascolta il bisogno di bene che è seminato nei loro cuori. Guarda i loro grandi sogni, leggi in profondità i loro dubbi, e ascolta benigno le loro inquietudini e il loro dolore. Per ognuno di loro sappi avere quello sguardo amorevole che avesti per quel giovane del Vangelo. Fissa i tuoi occhi su ciascuno di loro e amali di un amore intenso, speciale, come solo tu, Signore, sai fare. Tu, giovane fra i giovani, questa sera, sempre, vuoi incontrarli e vuoi camminare con loro. Ancora oggi desideri offrire te stesso, perché ognuno di loro abbia la vita in abbondanza. Come vorrei che ogni giovane ti conoscesse, ti incontrasse e potesse costruire una storia con te. Tu ci sei necessario, Gesù, per crescere. Tu doni alla vita un nuovo orizzonte e le dai una nuova direzione. Nell'incontro con te, prende corpo un'esperienza che trasforma l'esistenza. Grazie.